Vabbè, sono contento. Il mio primo gol tra i professionisti e sono molto contento. Questo gol va dedicato alla mia famiglia. Ringrazio pure Giovanni Giuffrida che mi ha aiutato, che mi ha detto vai, vai, vai a concludere la reazione. E' venuta la palla e ho fatto gol. Ti sei sentito un po' solo quando hai fatto il tiro? Vabbè, ho visto la palla arrivare, ho passato tra bianchi in mano e ci ho creduto. Ho detto vabbè, tiro, provo. Se va bene, va bene. Cristian, è stata molto bella la tua esultanza, che non sei fatto tanta metri di campo per andare sotto la curva della regia. Sì, ringrazio un po' i tifosi che sono venuti fino a qua. Volevo risultare con loro e sono molto contento di aver risultato con loro. Purtroppo fa parte di questo girone. Tutte sono partite dure, se non si riesce a chiudere può incappare in una situazione leggera in un gol. Abbastanza bello, c'è da dire la verità, però è un'azione molto confusionaria da loro. Purtroppo non siamo riusciti a vincere, però l'importante è non perdere queste partite, andare avanti, passetto dopo passetto e arrivare al nostro obiettivo. L'importante è che la prestazione si sia stata. Abbiamo commesso qualche errore, su cui poi racconteremo sicuramente in settimana. L'importante è l'atteggiamento, la voglia e il clima che già si respira. È bello.